Benvenuti a MeteoGiulianci.it. Domani, giovedì 7 marzo, la perturbazione numero 2, quella giunta martedì, porterà piogge su tutta l'Italia, ma dalla sera già migliora su Piemonte, Lombardia, Liguria e regioni tirreniche. Le temperature resteranno sempre su valori gradevoli, anzi tenderanno a crescere su quasi tutta l'Italia. Ma vediamo l'immagine del satellite virtuale, vedete come ancora la perturbazione numero 2 ricopra quasi tutta l'Italia. Bene, il tempo che farà allora domani, insomma, si commenta da sole, piogge dalle Alpi alla Sicilia, le nevicate sulle Alpi, ma a quote medio-alte, i venti meridionali, vedete, per lo più di scirocco che soffiano lungo i nostri mari. Andiamo a vedere le temperature, temperature massime in rialzo, valori intorno a 8-14 gradi al nord, 14-16 al centro, 16-18 al sud e sulle isole maggiori. Bene, termino qui, vi ringrazio per l'ascolto. Ancora un buongiorno.